ciao a tutti ben ritrovati sempre qui sull'e chess si gioca 5 minuti e l'idea di questi video è quella di spiegare sempre qualche nozione didattica in questa posizione decido di giocare e 5 cercando di rientrare in un finale in che modo si rientra in un finale il mio avversario è giocato cavallo f3 quindi voleva evitare questo duello nella parte finale della partita si poteva entrare in finale semplicemente con la cattura al centrale io riprendo donna per r cattura sfatando un po il mito che il re al centro della scacchiera sia una debolezza il re al centro della scacchiera è sicuramente debole in presenza di tanti pezzi se in apertura avete cambiato le donne il re al centro della scacchiera non è affatto un problema cavallo f3 per lui cavallo d7 per me cercando di mantenere un contatto una difesa sul pedone centrale cavallo c3 cavallo f6 e adesso devo cercare di capire cosa fare con quest'alfiere potrei cercare di riproporlo riproporlo in fianchetto con g6 alfiere g7 copiando un po le idee del mio avversario perché lui giocando g3 vuole posizionare l'alfiere qui e allora cerco esattamente di far lo stesso c'è una grande differenza tra me e lui la prima differenza è questa qui quando io posiziono l'alfiere in g7 indirettamente con il mio pedone rafforzo un contatto sul pedone d4 e quindi in questa posizione è tipica manovre tipiche dell'est indiana la cattura potrebbe essere possibile e cattura possibile perché dopo la possibile dopo l'eventuale ripresa di cavallo in questo caso interviene l'alfiere sempre controllando quella casa quando avete un alfiere di fianchetto lui è sempre il pezzo che comanda il gioco vi dirà sempre su che colore giocare quindi in questo caso io che sono in nero voglio giocare sulle case nere perché il mio alfiere di fianchetto sulle case nere viceversa il bianco cercherà di fare lo stesso sulle case chiare gioco una mossa di attesa voglio provocare questa spinta perché la mia idea era catturare per attivare la mia torre provocare questa spinta mi aiuta in parte per saltare subito in c5 attaccando il pedone 4 lo difende continuo con a5 mantenendo il mio fortissimo cavallo in c5 evitando la sua fastidiosa spinta e poi cerco di riorganizzare i miei pezzi attraverso la spinta nel pedone f questi sono degli sviluppi abbastanza e tematici e frequenti catturo in d3 lo mi riprenderà e gioca f5 qualcuno avrà notato che la spinta del pedone f5 non era abbastanza volte difesa però la sua posizione della donna in d3 mi permette di giocare questa e di per sé è un'ottima intermedia guadagni il tempo sulla donna libera la strada la traiettoria del mio alfiere di case chiare contro quel pedone e in questo caso visto che ha posizionato la donna in una casa spiacevole e ha perso un ulteriore tempo si è auto inchiodato ok l'auto inchiodatura è qualcosa in teoria bisognerebbe cercare di evitare perché si dà un po di iniziativa all'avversario eppure in questa posizione non sembra e non sembro non sembra che sia in grado di e di attaccare vediamo un po torre f8 riprendiamo il controllo sulla colonna f alfiere 3 la mossa che mi aspetto cerchiamo di dar fastidio e pedone b6 rafforzando un po la mia posizione mi cattura io ricambio e adesso dobbiamo fare un'analisi concreta di quello che abbiamo di fronte io la coppia degli alfieri ma il centro della scacchiera non è così aperto qual è il mio alfiere forte il mio alfiere forte sicuramente questo qui questo di case chiare per quale motivo perché ho tanti pedoni su casa scura ok lui si schioda torre b8 potrebbe comunque sia essere una mossa utile e su pedone b3 immagino che a4 cercando di rimuovere la mia debolezza il mio punto debole e possa darmi qualcosina torre b1 difende la pressione su pedone b3 si si è nuovamente auto inchiodato e dona d7 e allegramente è un miglioramento della posizione del nero due idee si aggiungono la prima alfiere h3 sfianchettando colui che abbiamo detto essere il pezzo migliore la seconda mantenere un contatto su quattro chissà in futuro anche la comunicazione delle torri potrebbe essere fondamentale quindi in questa posizione sono abbastanza soddisfatto di quanto ho raggiunto perché il pedone a vi assicuro che mi aiuta tantissimo per indebolire la sua struttura ogni qualvolta abbiate un pedone che è rimasto lì da solo quindi come in questo caso il mio pedone a quindi torno indietro quindi ogni volta che avete un pedone che è rimasto da solo cercate di avanzarlo perché potrebbe darvi soddisfazione nell'indabolire la sua struttura la partita continua adesso donna per a4 mi sembra abbastanza spontanea e la debolezza si è creata la debolezza si è creata qui su a2 e adesso e quindi da adesso in poi devo cercare di fare pressione proprio su quel pedone donna a5 mantengo un attacco su questo cavallo che probabilmente andava in b5 era nell'aria questa mossa e torre a8 vuole fare pressione su questo pedone lui lo difende lo difende con a3 però io attacco chi difende è vero che questo era il mio pezzo migliore però sono ben disposto a darlo se poi vorrà dire guadagnare un pedone alfiere per b5 guadagnerà un pedone perché poi giocherò donna per a3 gioco per migliorare la mia posizione prima di fare qualcosa di impegnativo perché un'idea che era interessante era catturo catturo donna per perché alfiere f8 potrebbe essere un miglioramento non è semplicemente una perdita di tempo alfiere f8 mi serve in alcuni casi per mantenere la difesa di d6 e la domanda potrebbe essere come mai e come potrà lui attaccare d6 sicuramente potrebbe attaccare d6 indebolendo e rimuovendo il pedone c7 comunque l'alfiero in f8 servirà anche per evitare possibili scacchi sull'ultima traversa la partita continua cerco di essere materialista catturo questo pedone in a3 pedone di vantaggio per me e ovviamente dei possibili rientri in caso di attacchi attraverso di h5 ok alfiere h3 mossa utile vuole entrare qui direi che lo scacco lo posso dare seguirà la torre in a1 coordinazione sull'ultima traversa o meglio sulla prima traversa e chiaramente e qui dovrà cambiarmi io cambio l'alfiere torna indietro no non è tornato indietro immaginavo dovesse tornare indietro per difendere c4 ho tempo in meno però un materiale e in più vediamo un po come continuare questa posizione ora per c7 sarà la sua mossa e4 vuole giocare 3 lo scacco vado via e3 è la mia idea se torre qui regi 7 e il mio re non nasconderò un h6 cercando di provare a vincere ok su questa direi così su questa alfiere 5 difendo e attacco non ci sono temi di matto almeno che non porti un pedone qui eccolo lì ok h6 h6 evita il tema di matto e prepara e3 e3 torre per f2 per questione di tempo non posso evitare e forse di ripetere magari deve fare torre d8 torre d7 e lì devo pensarmela molto bene prima di provare a vincere è molto importante aver giocato questa sequenza ok proviamo a vincere torre alfiere g7 mi difendo proverò a vincere in questo caso il tempo di fatto lui è soltanto il doppio del mio tempo ma non mi preoccupa e in questo momento non ha più scacchi possibili contro il mio re l'idea potrebbe essere torre per f2 e2 e2 in questo caso sarebbe vincente vediamo se mi permetterà di fare questa mossa no e allora giochiamo così pedone c4 va in avanti quando lo mi blocca e comunque sia arriverà a promozione settore per d6 per dell'istante anche su questa per dell'istante arriva lo scacco scacco promozione sempre con scacco e fortunosamente e ci ritroviamo di fronte a un matto ammetto che non l'avevo visto e vediamo i momenti critici quindi in questa posizione è torre 8 torre 8 molto interessante obbliga la spinta d5 altrimenti io catturo torre 8 quasi sempre è un'imprecisione perché la logica vuole che la torre vada sempre in una colonna libera aperta semi aperta dove ci sono pochi pedoni quindi la logica potrebbe voler dire che qui prima cambio poi gioco torre 8 ok la partita è proseguita in questo modo qui direi molto equilibrata immagino che prima o poi sia costretto a fare questa mossa che porterà una posizione con alfiere di coloro opposto è uno numero pari di pedoni il bianco forse avrebbe un piccolo vantaggio in quella posizione perché ha sempre l'idea di creare questo avamposto però tutta da giocare nel momento in cui spingo il mio pedone debole ricordate quando avete un pedone supersti dal bordo della scacchiera quello lì diventa un buon motivo per prendere spazio il pedone da 5 va in a 4 indebolisce la struttura come avete visto e poi alla fine ha portato un po di iniziativa bene se avete domande scrivete nei commenti seguite il canale ciao a tutti alla prossima